Adesso tocca a Paolo Giovannini che si avvarà del supporto tecnico di Nello Cutolo. Il calcio mercato dell'Arezzo comincia con l'operazione Rinnovi 6. Sono già stati ratificati nell'ordine Castiglia, Pattarello, Risaliti e Settembrini che lo avevano automatico in caso di promozione. Polvani e Gaddini lo hanno prolungato biennale per il difensore tre anni per l'attaccante nella scorsa settimana. Nel corso della cerimonia del Cavallino lo stesso Paolo Giovannini ha anticipato il triennale di Lazzarini davanti ad una numerosa platea. Domani potrebbe essere la giornata del nero su bianco di un triennale prossimi alla chiamata anche zona poggesi. Da definire invece le posizioni di Trombini, autore di una stagione positiva, e Gucci arrivato nel mercato d'inverno è quanto mai decisivo nella filializzazione della manovra. I giovani Damiani e Bianchi sono in stand-by, soprattutto il primo, visto che tutto dovrà essere discusso con l'udinese proprietaria del suo cartellino. Più sfumata la posizione di Cantisani, che al momento è tornato a Crotone, e di Diallo, che torna dopo la buona metà campionato giocata a Prato. Non si esclude che Giovannini lo rimetta sotto contratto per dirottarlo in altra sede.